Dopo un inverno e un inizio di annata piuttosto caldi, che hanno permesso in provincia di Cuneo la produzione di una quantità discreta di miele, di ciliegio, di tarassaco, il maltempo degli ultimi mesi ha compromesso il raccolto primaverile di miele di acacia. La speranza rimane quella di produrre un quantitativo adeguato, caratterizzato dall'ottima qualità che contraddistingue il miele dei nostri territori. Avvicinandoci alla giornata mondiale delle api, che si celebrerà il 20 maggio, siamo andati in Alta Langa, a Castelletto Uzzone, dove il giovane apicoltore Simone Molinari, che ha deciso di investire nella propria passione per l'apicoltura, dando vita ad un'azienda capace di nutrire di nuova linfa il territorio circostante, sta effettuando la raccolta del miele di acacia. La storia della mia attività nasce durante il Covid quando ho deciso di intraprendere una mia strada creandomi un'azienda agricola. Durante il periodo del Covid ho studiato apicoltura e a fine del 2021 ho deciso di aprire l'azienda. Sono partito con circa un centinaio di arnie, seguirle non è stato molto facile. Queste vallate, sin da piccolo, mi hanno sempre affascinato, ho sempre giocato però in queste vallate e ci sono cresciuto vivendomele e con la mia azienda agricola sto cercando di mantenere e dare sviluppo a queste zone oramai quasi disabitate. Reputo che questi terreni e questi territori abbiano un grandissimo potenziale sia a livello turistico che a livello di agricoltura. Anche se ci troviamo in una zona vocata per la produzione delle nocciole, ho deciso però di intraprendere un'altra strada, quella dell'apicoltura e della produzione di miele perché appunto trovandoci in un posto così incontaminato, così verde, dava un grosso potenziale a livello mellifero e di produzione di vari tipi di qualità di miele. Per esempio il castagno, il ciliegio, l'acacia, i mielefiori, il tiglio, la lavanda, tutto questo appena in 12 km di vallata. In questo momento sta avvenendo il raccolto di acacia, di miele d'acacia, quindi il mio lavoro consiste nell'andare in campo, negli apiari, controllare che la famiglia e che la salute appunto delle api stia bene e di controllare la produzione di miele. Una volta che finirà il raccolto di acacia porterò in laboratorio tutti i mieleari, una volta portati in laboratorio avverrà la deumidificazione per circa due settimane, una volta che l'umidità raggiunge il livello ottimale, tra il 16 e il 18% avviene la disopercolazione. Una volta disopercolate le celle, i telai vengono posti nello smielatore che, grazie alla forza centrifuga, fa fuoriuscire il miele. Il miele appena uscito dalla centrifuga presenterà impurità che saranno eliminate attraverso filtri posizionati su apposite vasche di acciaio, dette maturatori. Qui il miele vi rimarrà per 3-4 settimane e dopodiché sarà pronto per essere invasettato ed etichettato. Come l'azienda anche l'etichetta nasce con me perché appunto l'ho studiata e progettata io. Sul rete troviamo tutti i dati, tra cui la qualità del miele che viene prodotto in Italia e un QR code. Scannerizzando questo ti porta direttamente a collegarmi con il mio whatsapp e i miei social. Ad oggi la mia azienda vive con la vendita diretta del miele alla gente del luogo e ai piccoli negozianti. Il mio obiettivo finale però è quello di allargarmi, chiarirmi innanzitutto un sito in e-commerce e di poter vendere in tutto il mondo un prodotto di altissima qualità nel nostro territorio. Un altro progetto che vorrò intraprendere a breve è quello di predisporre il mio laboratorio alle visite aziendali e alle degustazioni in maniera da offrire oltre che al prodotto in vendita un'esperienza dove vado veramente a far capire al cliente dove ci troviamo e cosa stanno mangiando. Vedere una persona che arriva qua, guarda il territorio, si innamora e in più scopo che ci sono dei prodotti di altissima qualità mi incentiva. Nel frattempo Simone sta già seguendo un progetto dedicato ai più piccoli per far conoscere loro l'importanza del ruolo delle api nella tutela della biodiversità e per renderli un domani consumatori più attenti all'ambiente e consapevoli, tematiche da sempre care a col diretti. Ho iniziato da circa due anni un progetto negli asili dove vado a spiegare ai bambini quello che faccio e raccontare, a spiegare più che quello che faccio anche a spiegare le api, il ruolo delle api e l'importanza che hanno. Trovo tantissimi risultati su quell'aspetto e mi sprona veramente tanto.